Il mese di agosto è fondamentale per incrementare la vaccinazione, ancora una scommessa che dobbiamo portare a termine, mentre alcuni comuni in questa parte di Sicilia, nella provincia di Messina, quindi stanno lavorando bene, altri in qualche modo arrancano nella vaccinazione. Ci sono alcuni comuni che si trovano al di sotto del 55% come vaccinazione, a questi io rivolgo un invito forte a tutta l'amministrazione, ho sentito quasi tutti i sindaci di questi comuni, da lì a Literme, Scaletta Zanclia, Castelmola, Castellumberto, Gaggi e così via, Tortorici, per i quali Fiume di Nisi in particolare, l'ultimo comune di questa provincia in termini di percentuali di vaccinazione, a loro l'invito è che si raccordino ancora di più con questa struttura commissariale per fare in modo di mettere in campo le azioni necessarie, stiamo coinvolgendo gli assistenti sociali dei singoli comuni in modo da poter avere delle vaccinazioni di prossimità che non siano soltanto legati alla terminologia, ma siano legati all'effettivo raggiungimento di coloro che ancora non sono vaccinati. Un aiuto ovviamente in media è fondamentale, possono anche loro darci una mano perché la scommessa si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. Grazie.